solo nel server per chiedervi per dirvi un attimo una cosa ovvero che in questo episodio in questo episodio sarà l'episodio dove si tornerà si tornerà un mio amico di cui ora non vi dico andrà insieme a Evil nel mondo dove nella parte di mondo nella foresta dove Lollosomile è sparito per aiutarlo con le ricerche volete sapere il nome del suo amico? del mio amico? beh, ora ve lo faccio vedere ehi, vieni un attimo nooo tu io nooo dove? si, si, si la conosco, vieni the way the way ho finito di craftare tutta quella roba come potete vedere mi sono fatto un'armatura e però Evil anche se non penso non sono ancora molto sicuro che tu sia Evil ti dico io non posso aiutarti io non posso aiutarti nella tua impresa ma perchè la tua spada si bugga ogni volta che muori? perchè Spawni? deve essere un bug della nuova versione vai, ritorna allora io non ti posso aiutare però ti aiuto però ehi, io cosa faccio? non ti preoccupare ti aiuterà ti aiuterà il mio amico io mi aiuterà? il mio amico che solo io conosco anzi che in realtà mezzo mondo conosce te lo chiamo? va bene ehi, vieni un attimo oh, mi hanno chiamato mi hanno chiamato aspettate che ora arrivo aspettatemi che ora arrivo perchè io sono cieco do you know the way? allora dove sarebbe questa persona Gianfranco? beh devi sapere che lui che lui beh lui Evil lui sarebbe Uganda Knuckles do you know the way? do you know the way? Butler Peperoni peperoni allora i Gianfranco tu puoi anche andare a fare la tua cosa? va bene raga io io vado ciao ciao ok ora siamo rimasti solo noi allora tu dovresti essere Evil quello lì di cui mi ha parlato Gianfranco giusto? anche Siamo anche conosciuti o come quelli che erano in città solo che purtroppo siamo i maltrati e quindi è solito oddio ma la mia faccia è bellissima non avevo mai visto la mia faccia così da vicino vabbè comunque io sono Ugandan Knuckles quello lì che va che piace su youtube Do you know the way? Vabbè io sarei quel tizio che Dobbiamo andare Allora parlami di parlami di qual è la missione che devi far fare a Gianfranco Gianfranco ovviamente molto bravo com'è non me l'ha spiegato Parlami della missione che ti devo aiutare a fare Gianfranco da molto intelligente non me l'ha E chi sarebbe? E chi sarebbe Lollosomille? Oh è è molto indraffarato ringrazio che ti ha fatto fare quella spada vabbè comunque per tornare lì dobbiamo lasciare qui i nostri averi per andarlo a cercare dobbiamo lasciare qui i nostri averi è troppo pericoloso portarseli con sé scusa vabbè andiamo ok andiamo eccomi qui ho già preso questa roba che non si sa per quale motivo stava a terra in quella foresta io sto entrando in questa strana caverna che sembrerebbe essere una casa eh due letti eh ma come hai detto che ti chiamavi? come hai detto come hai detto che ti chiamavi? vabbè Evil è questa qui casa tua questa qui dove sono io adesso quella lì dentro un che una specie di penion questa qui dove c'è pure una porta un due tre quindi aspetta io sto qui stanno dentro devo salire di questo passo non troverò mai la villa posso fare un attimo una cosa devo un ottimo disattivare l'autogjump dovevo disattivare l'autogjump toglie un'autogjump oh ma oh non mi guardo così mi fai raffiare eh non mi guardare così mi fai raffiare non mi guardare così mi fai raffiare la villa ah boh e ma che si fa io sono potente posso fare qualsiasi cosa qui ovvero ha iniziato a piovere oh no 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 vieni a dormire cosa vedo ma dove stai tu ma dove stai tu ma eh Bill dove stai dove stai dove stai il letto che ha aiutato per dormire e ora dove uh ciao mi vado a fare una casa mia ci sono quasi morti c'è un po' che iner qualcosa di genere ma pur io sono un genio che mi vado a fare ma ci sono dei pipistrelli in questa caccia che ti dico sai che ti dico leva il letto che sta qui l'ho dovuto togliere perché sennò morirò allora questa è la mia parte ridammi i miei quattro pezzi di terra no ne servono i miei quattro però me ne servo un altro perché sennò è dispare me ne servono tre dammi tre pezzi di terra dammi lei adesso uno due tre vabbè dammi un attento dammela tutti hai detto qualcosa ma sai che ti dico faccio una mini casa qui a fianco ok così nell'emergent no mi faccio una mini casa qui a fianco faccio una mini casa qui a fianco qui dietro questo muro no voglio con voglio con voglio nel senso che voglio allargare la casa che cosa pensavi allora tu intanto fammi una porta e fa non per cui non per niente ti ho chiesto di farla faccio qui un mini con eh aspetta l'acido la prima ho visto che ci sono dei pezzi di legno ma lo sapete una cosa ragazzi so che sto registrando non vi preoccupate ma vorrei concludere questo episodio qui se Evil è d'accordo ok Evil è d'accordo quindi per questo episodio della Warcraft è tutto da Knuckles e ma Evil è tutto ciao